Buongiorno 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 Calazzi firma i primi deferimenti Dirti Socceri il procuratore federale parte dal Catania domani potrebbe toccare al Teramo. A centropagina l'oceano di Barami, Castelbasso, il pianista iraniano stasera in concerto. E poi bilancio Brucchi oggi la resa dei conti, consiglio comunale a oltranza prima del rimpasto. Il caso a Teramo, pocheristi perseguitati dal fisco. E poi la polemica dell'Ampi via Almirante non va proprio giù ai partigiani. Ancora da Firenze a Pietracamela sull'Appelnino, Lost for Italy e poi Tortoreto lo yacht si spezza nel sollevamento rinviato, il recupero della rissa. Giulianova sgomberato campo nomadi sull'Adriatica e poi di taglio alto l'inchiesta sugli appalti della ricostruzione. I polisini si dimettono dalla edil costruzione. Il comitato dei sindaci ospedale unico nell'agenda di Paolucci a Tortoreto. Il ruzzo prende altro tempo per il depuratore. Questi principali titoli di apertura prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete. La luna vi dona una stabilità d'umore che non vedevate ormai da giorni e l'occasione giusta per parlare faccia a faccia con la persona che più vi interessa. Vi aspetta una serata intensa ed intima con il partner. Toro. Oggi alcune questioni troveranno la giusta soluzione e l'umore riprenderà a salire. Chi vi circonda accetterà la vostra opinione senza troppe discussioni. Occhio al denaro in uscita. Gemelli. Siete stanchi dopo giornate faticose e movimentate. La luna disarmonica amplifica questa fiacca. Ricordate che non potete trattare gli amici e i partner come vostri sottoposti. Curatevi con più attenzione del solito. Cancro. Pur senza essere eccezionale, questo giorno si annuncia scorrevole e sereno. Nessuna grande opportunità, ma comunque la possibilità di riprendere il fiato e di mettere ordine nei vostri pensieri. Guidate con prudenza. Leone. Questo giorno vi vede di nuovo in ottima forma e piacevoli. Siete capaci di vedere i vostri difetti e di correggerli. Se volete realizzare un progetto importante che riguarda la sfera sentimentale, questo è il momento per farlo. Vergine. Oggi avrete da ridire praticamente su tutto. È vero che siete spiriti critici e nulla sfugge al vostro controllo, ma non dovreste offendere la sensibilità altrui. Controllatevi a tavola. Lavoracità va tenuta il più possibile a freno. Bilancia. Preparatevi al meglio perché il cielo è tutto dalla vostra parte. I riflettori stellari sono puntati infatti su di voi. Chiudete dunque gli occhi se avete un partner a cui volete veramente bene e lasciatevi trasportare dalle emozioni. Scorpione. Sforzatevi di essere ordinati e programmati fin nei minimi dettagli anche se accetterete tutto questo malvolentieri. Questa sarà la condizione per vedere coronate da successo le vostre iniziative. In amore, tutto va per il meglio. Sagittario. Lasciate che il buon umore e l'allegria siano il vostro biglietto da visita nelle relazioni con gli altri. Un briciolo di tolleranza in più migliorerà l'immagine che avete di voi stessi. L'amore non va affatto bene. Capricorno. Se navigate nell'incertezza, questo giorno vi offre il tempo e le circostanze adatte per fare chiarezza in una questione che vi sta dando del filo da torcere, vietato trascurare il fisico e aspetto. Acquario. Si apre una via d'uscita per i problemi che si sono presentati in questo ultimo periodo. La vita sociale sarà gratificante e l'amore, che recentemente era un po' instabile, riprenderà slancio e interesse. Pesci. Oggi potrebbe essere uno sbaglio agire sopra le righe e non avere abbastanza fiducia della persona amata e ad accettarla per com'è. Lo stomaco potrebbe darvi qualche grattacapo a causa di un'alimentazione troppo ricca. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani. Iniziamo dal centro con la lotta al terrore. Morto il Mullah Omar, il capo dei talebani. Kabul conferma la notizia, la sua scomparsa due anni fa, forse per tubercolosi. Su di lui una taglia di 10 milioni di dollari. Il capo carismatico che impose la sharia, venerato come un dio e amico fraterno di Billaden, ordinò l'abbattimento dei Butta di Bamian. E poi lo scontro politico. Azzolini no all'arresto. Il PD si spacca. Il risultato? 189 no, 96 sì. E 17 astenuti. Ribalta il voto della giunta. Se Racchiani protesta dovremmo chiedere scusa. Nasce ala i responsabili di Verdini. 10 senatori dal centrodestra, ex PDL. E amici di Nicola Cosentino voteranno le riforme del governo. L'ex coordinatore azzurro mette le mani avanti. Non ci sarà nessun ingresso in maggioranza. E vorrei tranquillizzare che non abbiamo intenzione di iscriverci al PD. Il caso Roma parte il marino terra, ma è già scontro sindaco assessore. Divergenze di opinioni con il nuovo titolare di trasporti. Il primo cittadino dice tolta la melma, riordiniamo la città. E poi mafia capitale alla cascina appalti fino al 25 giugno. I lavoratori di Atac, noi aggrediti. Si tin contro le ipotesi di privatizzazioni. Solidarietà con il collega sospeso. Sul litorale di Ostia ha sequestrato il porto turistico. In manette il presidente e altri tre dietro il crack di una società. E poi il rogo doloso. Fiumicino in tilt e Renzi ad Alfano. Ora basta. Voli interrotti per tre ore. L'incendio è partito da una pineta. La procura ha aperto un'inchiesta e il premier dice è impensabile che il più importante hub italiano sia in balia dei male intenzionati. All'Italia minaccia potremmo lasciare lo scalo romano. E poi contratto i sindacati in trincea pubblico impiego chiesto avvio di un confronto per rispettare la consulta. Il rapporto dice la ripresa c'è. Vola l'export con un più 5%. Nel 2016 la corsa potrebbe avere una fortissima accelerazione. E poi il safari in Zimbabue. Il dentista USA ammette ha ucciso io. Cecil Leone dalla criniera nera è stato trafitto con un arco. Il cacciatore ha pagato 50 mila dollari a due bracconieri. 7,30 gli italiani scelgono il precompilato. E poi Parigi indagine della UE su Euro Disney. La società praticherebbe prezzi differenziati tra paesi europei. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo. Vuoi comprare casa? Calo record dei prezzi al mare in Abruzzo. Mercato immobiliare in fermento grazie ai ribassi del 9-10%. Banche pronte sui mutui ma occorre ricostruire la fiducia. E poi finora la crisi ha fatto chiudere 589 imprese edili. L'altro mercato e gli stranieri si sono già mossi. La richiesta estera è cresciuta del 42,6% giù il segmento del lusso. L'intervento banda larga per tutti. Finalmente i soldi ci sono. E poi apriamo con le pagine di Pescara. Anzi arriviamo alle assunzioni e sprechi così viaggiava la Sangritana. CGL e UGL confermano lo sciopero del 7 nei trasporti e dopo tua denuncia nel caso della società regionale ferroviaria andando anche contro gli altri sindacati. Incongruenze evidenti nel processo di fusione per la nascita dell'azienda unica dei trasporti tua. Vecchi problemi con altrettanto noti vecchi dirigenti e amministratori al comando. Dinomina politica, disastri contabili e amministrativi in eredità e taglie servizi. È confermato lo sciopero del trasporto regionale di 24 ore indetto da CGL e UGL per il 7 agosto. A rilanciarlo e a rinfocolare il terreno di scontro sono le segreterie di Filt CGL Abruzzo e UGL Autoferro Trambieri che alle accuse già mosse nei confronti del governo D'Alfonso nel processo di fusione tua aggiungono il problema di Sangritana. E arriva anche la risposta di Camillo D'Alessandro, il sottosegretario alla regione e dice ci saranno nuove regole, basta bugie. Nei prossimi giorni avvieremo un confronto con le rappresentanze sindacali, con le amministrazioni per dare vita alla nuova offerta nel trasporto pubblico locale e lo annuncia il sottosegretario alla presidenza con la delega ai trasporti D'Alessandro, secondo cui il primo alleato dei lavoratori è la regione che a differenza di quanto accaduto nel passato si è assunta la responsabilità di cambiare tutto. E poi Pescara, riviera di Porta Nuova, l'intervento di Pescara Porto. Palazzi uffici accanto all'ex cofa, una norma sblocca il progetto. Un emendamento a una legge del governo rimette in moto il complesso edilizio di Emilia e Mammarella, fermato da una sentenza del TAR. Iacerbo dichiara, superati i vincoli arriva un altro muro di cemento. L'emendamento libera tutti, apre le porte anche a Di Properzio, Lamante e De Cecco. E c'è stata ieri una polemica proprio mossa dal rappresentante di rifondazione comunista Maurizio Acerbo sul rischio che si corre proprio con questa norma che viene sbloccata e soprattutto per l'area vicino all'ex cofa. Vediamo il servizio. Noi riuscimmo a bloccare un progetto autorizzato in maniera illegittima dal Comune di Pescara per tre edifici e non alberghi. Siamo chiari che andavano sulla riviera di Porta Nuova nelle aree immediatamente adiacenti all'ex cofa. Il TAR ci dette ragione e disse che il decreto sviluppo e la legge regionale fatta dal centro-destra ma scritto dai palazzinari pescaresi non si poteva applicare. A dicembre alla chitichella è stato inserito tra le centinaia di commi della legge di stabilità finanziaria un comma di interpretazione autentica di quella norma che invece viene evidentemente in soccorso della società privata che deve costruire quell'intervento perché dice che si applica anche ai piani particolareggiati e quindi sostanzialmente i costruttori fanno quello che gli pare. La relatrice al Senato di questo provvedimento era la senatrice di Pescara Federica Chiavaroli. Sanno benissimo di aver fatto una cosa indecente perché per sei mesi non ce l'hanno detta, l'hanno tenuta nascosta, non l'hanno vantata e l'ha dovuta scoprire un partito che in questo momento è extraparlamentare come rifondazione comunista. Una interpretazione ancora più berlusconiana della norma di Berlusconi perché la norma di Berlusconi non prevedeva che non esistessero più piani regolatori e piani particolareggiati. Una vergogna e un crimine contro la città dopo la caserma fatta realizzare sulla riviera di Porta Nuova. Dopo le accuse di Maurizio Cervo arrivano anche le risposte della senatrice Chiavaroli che dice la mano non è mia, non conosco questa storia. E risponde il comma 271 della legge di stabilità è un'interpretazione autentica del decreto sviluppo che io condivido e se c'è stata questa interpretazione è perché c'è stata una disputa, ma al di là di questo non ricordo. Così risponde la senatrice Chiavaroli che commenta l'emendamento alla legge di stabilità messo sotto accusa da Acerbo e le accuse dell'ex parlamentare di rifondazione. Secondo Acerbo lei sarebbe invece consapevole di questo emendamento e degli interessi collegati alla norma, soprattutto a Pescara. Non è vero, mi ritengo assolutamente estranea e poi dice sono senatrice della Repubblica eletta in Abruzzo e pertanto mi occupo dell'Abruzzo in Senato. Così, quando ci sono delle priorità comuni non c'è niente di male ad interloquire con il Presidente della Regione. Se ad esempio c'è un problema sulla sanità mi attivo per risolverlo nell'esclusivo interesse dell'Abruzzo. Se invece non condivido dei punti mi oppongo. Questa è la risposta della senatrice Chiavaroli. Restiamo a Pescara. C'è l'allarme furti, gang dei garagi Nazione. Nel bottino bici, olio e vino. Blitz nella notte in un condominio di via Berardinucci. Forzato il quadro elettrico e svuotati cinque box, lo sconforto dei residenti. Qui la gente è terrorizzata. E poi ai grandi alberghi arrestato dopo il furto di una bicicletta. tre denunciati, schede o calci, così scassinavano le macchinette della stazione. Siamo sempre a Pescara, sulla cronaca di Pescara. Questo è il... E poi ci sono anche state le spaccate in sette diversi negozi, ma il ladro viene catturato. Il raid all'alba di un marocchino in piazza San Francesco e via le Kennedy ruba soldi e cibi, poi fugge all'arrivo dei cittadini. Ma è stato incastrato dalle telecamere. E poi intrappola banda di ladri specializzati in grandi colpi. In tre sorpresi, in un garage dopo il maxifurto, in un calzaturificio a fermo, avevano un disturbatore di frequenza e materiale per scassinare casseforti. E allora c'è stata un'operazione da parte del nucleo dei carabinieri di Pescara e proprio questo è stato il colpo. Il colpo era stato fatto a fermo, quindi nelle marche, però invece la merce era stata nascosta proprio in provincia di Pescara, il servizio. Bloccati in un garage di Cepagatti, in provincia di Pescara, con 522 paia di scarpe rubate in un calzaturificio delle Marche, per questo sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri di Pescara tre romeni con l'accusa di ricettazione. I cittadini avevano anche un vero e proprio armamentario per commettere furti, sequestrate anche due tele di pregio. Ieri sera intorno alle 19 i carabinieri della stazione di Cepagatti hanno sottoposto a fermo tre cittadini romeni e dalle indagini che abbiamo eseguito nell'immediatezza è emerso che erano stati responsabili di un maxifurto commesso nelle marche. Il materiale che abbiamo rinvenuto sono oltre 500 paia di scarpe e sono di due marche di alta moda. Il valore è circa 60 mila euro dei prodotti che abbiamo rinvenuto e sono stati il 100% di quanto ha sportato. Inoltre all'interno abbiamo trovato tutta una serie di attrezzi dai classici martelli pneumatici a martelli accette e a dell'attrezzatura molto più complessa, quali jammer che sono dei disturbatori di frequenze e quindi impediscono agli allarmi di scattare, a scalette a pioli e un palo della Lapdance che utilizzato insieme a dei cricchi idraulici permette di abbattere delle pareti. Parliamo di tre persone, tra l'altro con precedenti che erano tornate in Abruzzo per cercare di vendere questa merce. Allora, su alcuni aspetti ancora dobbiamo approfondire. Certamente sono stati trovati con le mani nel sacco e questo è un dato. Ora sui canali di eventuale riciclaggio del materiale per ora non ci possiamo esprimere. Insieme alle scarpe, insieme a tutta l'attrezzatura sono stati trovati anche dei quadri su cui sono in corso degli approfondimenti. Ora in collaborazione con i colleghi del TPC di Roma cercheremo di capire se sono opere rubate come sospettiamo e eventualmente anche il valore che potrebbe essere piuttosto elevato visto che parliamo verosimilmente di quadri dell'Ottocento. La collaborazione dei cittadini è determinante per noi. La sicurezza compartecipata è assolutamente un quid in più per noi. Ci permette di poter intervenire nell'immediatezza e agire in maniera proficua. Quindi colgo l'occasione per lanciare un appello alla cittadinanza a telefonare al 112 quando notano qualcosa che non va. Può essere la persona sconosciuta all'interno del palazzo o come in questo caso dei soggetti con delle facce lombrosiane che si aggiravano in un garage. Lasciamo la cronaca, ora ci occupiamo di meteo, di Abruzzo meteo e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca. Allora iniziamo a parlare del weekend alle porte perché ovviamente si era parlato di un ritorno del caldo questa settimana insomma le temperature sono effettivamente aumentate il quadro del weekend, invece quale sarà? Sì Francesca, continueremo ad essere interessati da quest'area di alta pressione anche se c'è da fare qualche piccolo aggiornamento in merito soprattutto alle prossime ore, anzi alle prossime 48 ore perché se da un lato siamo interessati soprattutto da masse d'aria calda di poverenza nordafricana dovute all'azione dell'alta pressione al nord comunque iniziano ad affluire, continuano ad affluire anzi delle masse d'aria più fresca che danno luogo anche a dei fenomeni di instabilità. È previsto Francesca un cedimento, un nebole cedimento di questa struttura di alta pressione appunto nelle prossime 48 ore quindi di conseguenza anche sulle regioni centrali inizieranno a scorrere seppur marginalmente queste masse d'aria umida che potranno dar luogo a delle formazioni temporalesche quindi tra oggi, sia oggi, sia nella giornata di domani che nella giornata di sabato non si escludono delle formazioni temporalesche pomeridiane a partire dalle zone montuose, dalle zone appenniniche lungo la salla appenninica in estensione occasionalmente anche sul versante orientale entro la serata quindi questa è una nuova cosa da segnalare soprattutto per le prossime 24-48 ore quindi c'è la possibilità di temporali comunque le temperature resteranno al di sopra delle medie stagionali in particolar modo sul versante orientale che in mattinata nel corso delle prossime ore sarà interessata da venti dai quadranti occidentali di conseguenza quando soffrono venti occidentali le temperature aumentano sensibilmente anche lungo la fascia costiera per quel che riguarda poi la tendenza francesca per il fine settimana assisteremo comunque a una nuova rimonta dell'alta pressione ma attenzione alla giornata di sabato perché è previsto il transito di un sistema nuvoloso tra la mattinata e il tardo pomeriggio che potrebbe dar luogo a degli annuvolamenti ma localmente anche a dei fenomeni di instabilità a partire dal settore occidentale in estensione verso il settore orientale della nostra regione mentre da domenica l'ulteriore rimonta di questa imponente struttura di alta pressione dovrebbe garantirci ancora una volta condizioni di tempo stabile soleggiato con temperature in ulteriore aumento anzi poi gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano proprio una certa persistenza di questa struttura di alta pressione che tendrà a rinforzare sul Mediterraneo occidentale sulle nostre regioni settentrionali e marginalmente anche sulla nostra regione quindi di conseguenza continueranno a manifestare temperature molto elevate sulla nostra regione con tassi di umidità in ulteriore aumento questa è una tendenza per quel che riguarda la prossima settimana sulla quale poi torneremo a parlare nel corso dei prossimi aggiornamenti Francesca Giovanni prima di salutarci come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo a partire dal sito www.abruzzometeo.org questo è il sito ufficiale ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia qui troverete tutti i bollettini aggiornati e come segnaliamo sempre ci sono quattro finestre sulle quattro province abruzzesi con le webcam in tempo reale per vedere anche quella che è la situazione sul territorio sottolineiamo e suggeriamo sempre le due pagine Facebook il profilo che si chiama Abruzzo Meteo questa è la pagina ufficiale troverete tutto quello che è presente nel sito e suggeriamo sempre il profilo personale di Giovanni De Palma perché qui troverete qualche curiosità in più come la foto scattata alle prime luci dell'alba come questa mattina dove più o meno si registrano i gradi anche l'andamento della giornata ed eccola qua e poi troverete ovviamente anche qui tutto quelli che sono i bollettini aggiornati e per gli amanti appassionati del meteo anche gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma con le varie spiegazioni sotto importante è anche la segnalazione che troverete nella pagina molti utenti segnalano con delle foto o con dei video quello che succede sul proprio territorio e questo è utile da una parte per Giovanni De Palma dall'altro per tutti gli utenti che sono connessi alla pagina che vengono così informati in tempo reale perciò noi ve la suggeriamo Giovanni io ti ringrazio tantissimo come sempre e l'appuntamento con Abruzzo Meteo torna domani mattina alle 7.20 buona giornata grazie Francesca una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 grazie grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo torniamo a Pescara perché si parla della notte dello shopping domani il centro vietato dalle 16 chiude anche un tratto di Corso Vittorio sfilate spettacoli e degustazioni fino all'alba e questo è il tracciato esatto che troverete per la notte dello shopping con tutte le strade che ovviamente non saranno aperte al traffico e poi i ribelli del PD disertano la cena di Alessandrini il sindaco convoca i consiglieri in pizzeria per ricompattare la maggioranza ma alcuni non si presentano oggi la seduta sul bilancio si preannuncia turbolenta doveva essere la pizza della riconciliazione dopo le polemiche scoppiate con la nomina del neossessore Laura Di Pietro e invece alla cena organizzata dal sindaco Alessandrini ieri sera allo stabilimento La Lampara alcuni consiglieri della maggioranza non si sono presentati diverse le assenze del PD guarda caso proprio del gruppo che nei giorni scorsi ha criticato il sindaco per la nomina del neossessore qualcuno si è giustificato asserendo di aver fissato precedentemente un altro impegno e poi guasto riparato si rompe la condotta fognaria di Via Raiale e il mare diventa scuro per ore il guasto avvenuto lunedì sera è stato riparato ieri è stato riparato rimettendo in funzione la condotta i flussi di acque reflue che sono tornati ad essere convogliati al depuratore ha detto l'assessore ai lavori pubblici Enzo Del Vecchio e ora si sta intervenendo su altri punti per rimetterla in sicurezza e poi la Fira Station per imprenditori ai primi passi inaugurato al pieno terra della stazione lo spazio per start up realizzato dalla finanziaria regionale Ancora Ecco Vertigo Suite Danza Circo e Musica si fondono all'Outlet Stasera il quinto appuntamento con Street Pop Festival degustazioni gratuite in strada preparate da tre chef si parla ovviamente di città Sant'Angelo e poi andiamo a Montesilvano tariffe e tributi boccata d'ossigeno per i contribuenti la stangata Imu evitata con i soldi dell'alluvione assegnati 500.000 euro al Comune per il riconoscimento dello stato di calamità dopo i nubi fragili di marzo ma prosegue la protesta dei genitori sul caro Mensa Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi tornamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco Seconda parte della nostra rassegna stampa la BCC di Cappella esposto alla Banca d'Italia la cordata antiborgia il presidente indagato per incetta di deleghe che sollecita la vigilanza su sofferenze e nomine d'istituto non solo un'inchiesta giudiziaria che vede indagato Samuele Michele Borgia dopo la contestatissima riconferma alla presidenza della BCC di Cappella sul Tavo in ballo c'è anche un esposto alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia oltre a un ricorso che sarà presentato nei prossimi giorni al giudice civile per chiedere di intervenire sulle delibere assembleari mentre in fase di elaborazione una nuova istanza all'autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento delle elezioni che hanno delineato il nuovo organigramma della Banca di Credito Cooperativo ed arriva anche l'intervista al presidente che dichiara non accetterò mai uno stile più disinvolto vorrebbero che trasformassi la BCC in una banca più imprenditoriale disinvolta nell'amministrazione del credito ma finché sarò presidente non consentirò che questo istituto adotti metodi che mi fanno pensare a gestioni tipo Terca Soccaripe Samuele Michele Borgia accetta la sfida al suo terzo mandato di presidente al credito cooperativo di Cappella e Parla senza peli sulla lingua e poi a Loreto Colarossi il nuovo segretario del PD eletto dal circolo cittadino del partito con il 97% dei voti a Moscufo no all'isola pedonale il sindaco rigetta l'istanza di 130 cittadini un musical su Madre Teresa e Luca Carboni in concerto a Francavilla due giorni di celebrazioni in piazza Sant'Alfonso con un ricco calendario di manifestazioni civili e religiose mentre la comunità dei fedeli si prepara a salutare l'amato parroco a fine estate e poi a San Giovanni Teatino festa jazz in piazza San Buceto sabato e domenica serate di musica con concerti gratuiti alle 21 e 30 frane 2 milioni per i lavori appenne la maggior quota dei fondi regionali ma diverse contrade sono escluse dalla ripartizione e poi in assi in una porcilaia fuori legge sanzionato un allevamento di suini vestino i maiali senza acqua e tenuti nella melma a tocco da casaure degustazioni di oli e musica per la rassegna di agosto e poi a Popoli una seduta a fiume sulle tasse e i rifiuti oggi il pacchetto finanziario all'esame del consiglio comunale andiamo a Chieti l'università all'indennità di Ateneo torna in busta paga siglato l'accordo sul contratto integrativo per il personale tecnico amministrativo stipendi più pesanti da 250 a 300 euro edilizia sociale ecco il piano per il rilancio le nuove regole affrontate nell'incontro promosso dall'assessore di Matteo all'hotel Parcopaglia e poi all'Aquila Tancredi al GIP niente estorsione era un pagamento tramite fattura inchiesta sui puntellamenti l'ex assessore esibisce un atto che per i suoi legali farebbe cadere il reato negano le accuse anche gli imprenditori coinvolti domani si decide sulla revoca degli arresti l'avvocato della di periccardo Lopardi afferma che gli appalti sono stati ottenuti senza lavori politici e per il fatto che l'azienda era inserita nella white list e poi niente facebook o playstation per gli indagati l'indagine si allarga ora tremano in tanti le ditte coinvolte lavorano in 100 aggregati edilizi per la ricostruzione svelato il meccanismo dei soldi a Teramo c'è la sanità che cambia i nuovi parametri Teramo e l'Aquila si divideranno il super ospedale riunione del comitato ristretto dei sindaci con Paolucci le resta l'incertezza su neurochirurgia e cardiochirurgia di spalle i sindacati smie e cimo allarme sui budget dei reparti troppi tagli e i malati in fuga pochi soldi per gli strumenti se non ci dotiamo di nuova tecnologia e riduciamo la qualità delle prestazioni facilitiamo l'esodo verso le cliniche private e di taglio basso c'è la provincia che non molla i disabili paga i trasporti anche se non deve ci spostiamo sulle pagine del messaggero e apriamo parlando di poltronifici da record lo scandalo al sole delle società partecipate corte dei conti al vetriolo sui carrozzoni abruzzesi dove il costo per dipendente è il più alto d'italia 63 mila euro l'anno costo del personale a livelli sconvolgenti rispetto alla media nazionale così produttività picco e utili inesistenti e poi edilizia scolastica pioggia di fondi 26 milioni per oltre 50 istituti il ministero ufficializza l'elenco online Chieti guida la graduatoria delle province all'aquila il delta chirurgico pronto l'ospedale vede la luce entro la fine dell'estate reparti nuovi di zecca nell'edificio restaurato e poi la curiosità i farmaci antitumore in laboratorio parcheggio a pagamento a campo imperatore si vuole evitare che gli automobilisti salgano in quota consiglio di Cesare e Vittorini polemizzano sulla convocazione Pietre che cantano quattro spettacoli Piera degli Esposti a Rocca di Mezzo Lorenza Borrani a Ocre Tancredi si difende nessuna istorsione i rapporti sono leciti l'ex consigliere ha scelto di parlare per un'ora nell'interrogatorio e l'avvocato ha dichiarato nelle sue richieste nessuna minaccia alle aziende chiesto l'alleggerimento dei domiciliari possibili sviluppi immediati ovviamente l'inchiesta è quella di Redderazione e poi gli imprenditori di Ipe mai pagato l'ex politico di spalla i 207 giunti scoperti nel cantiere di Villa Palitti dimesso dall'ospedale e colpito da infarto aveva accusato un forte dolore al torace ma dopo gli esami i medici del pronto soccorso lo avevano mandato a casa il 51enne è rimasto invalido e chiede il risarcimento ritenendo di essere stato esposto a rischio di morte secondo gli avvocati sarebbe stato sottovalutato l'aumento della troponina trasacco una donna scippata in pieno centro da un giovane e poi 3G d'agosto mobilità per 93 lavoratori ci spostiamo restiamo sulle pagine del messaggero andiamo a Pescara sulla riviera sud ecco la norma che dà il via libera al cemento Maurizia Cerbo denuncia un emendamento alla legge di stabilità che rimette in pista il progetto Pescara rapporto accanto all'ex cofa i premi di cubatura del piano casa prevalgono sui piani particolareggiati rifondazione accusa Federica Chiavaroli che è stata relatrice della finanziaria abbiamo letto anche la smentita e la replica della senatrice dell'NCD Federica Chiavaroli e poi droga il vigile del fuoco scarica sull'amico l'interrogatorio Camplone si smarca dall'accusa di spaccio Spinelli e i miei colleghi ma senza mai chiedere soldi il magazzino delle scarpe rubate oltre 500 paia griffate Bruno Magli Alexander Smith trovato in un garage a Cepagatti c'erano anche tele antiche il blitz poche ore dopo il furto in una fabbrica del Fermano tre fermi dei carabinieri avevano attrezzi per ogni genere di colpo e poi Biale Kennedy devastata sette negozi arrestato Rita El Cajat elogio del cinema parla a tutti crea ricchezza l'intellettuale marocchina candidata al Nobel madrina del festival in corso all'aurum ieri l'incontro con il sindaco un pensiero per l'aquila spero che non venga dimenticata e che ritrovi presto il suo splendore a Chieti università ripristinata l'indenità ai dipendenti a mediare tra le parti è stato il professor Luigi Capasso accordo raggiunto all'unanimità ora il parere dei revisori di spalla la rete idrica a pezzi ben 65 falli ecco il piano di emergenza il comune ha deciso di istituire una task force al via i lavori ma i cittadini protestano l'assessore risponde stiamo trovando i fondi necessari puntaderci e allarme infuriano gli incendi in azione vigili del fuoco e protezione civile le fiamme lambiscono oppure l'autostrada ed ecco le immagini della riserva la situazione è preoccupante è stata costantemente seguita dalla sala operativa della protezione civile regionale già devastata dai roghi delle settimane scorse anche la riserva di puntaderci è andata di nuovo sotto attacco di notte le fiamme si sono allevate sul costone che domina la spiaggia di puntapena nel cuore di un'area che a questo punto quasi paradossalmente viene classificata come protetta contro i piromani fino ad ora non c'è protezione che tenga circostanza questa che induce i carabinieri a stringere i tempi delle indagini le ha sollecitate nei giorni scorsi l'assessore Marco Marra che ha presentato un esposto in procura stessa cosa ha fatto Marco Di Michele Marisi responsabile di Giovani in Movimento che però vuole sapere se ci siano state omissioni nei controlli a Teramo via i semafori saranno tutte rotonde ieri è partito il cantiere per fare un rondolo in crocio tra Ponte San Ferdinando e Via Fonte Regina i lavori di 350 mila euro dovranno terminare assolutamente per il 14 settembre giorno di apertura delle scuole l'assessore di Giovanni Giacomo dichiara i progressi sono sotto gli occhi di tutti e il traffico si è snellito molto resta in piedi anche il megaprogetto di Villa Pavone di 5 milioni di euro per bypassare i passaggi ferroviari ma a Colle Terrato gli abitanti protestano soprattutto per le frane il comitato di quartiere dice nessuno si è mosso per mettere in sicurezza quella strada e poi la provincia di Sabatino saluta i 5 ragazzi che hanno fatto a piedi 350 km la via da intitolare ad Almirante è polemica dura presa di posizione di Ampi e del sindaco Astolfi che replica è solo una proposta siamo ad Atri e si accende la discussione politica dopo la proposta del sindaco Astolfi di intitolare una via della cittadina Ducale a Giorgio Almirante ex segretario nazionale del movimento sociale italiano ad insorgere l'Ampi l'associazione nazionale dei partigiani che non nasconde tramite il presidente provinciale Franchi tutto il proprio disappunto è una scelta che offende la coscienza democratica e antifascista della comunità triana che diede in Natalia al martire Francesco Martella assassinato da un commando fascista nella sua abitazione la proposta approderà oggi in consiglio comunale insieme a quella di intitolare una piazza all'ex segretario del partito comunista Enrico Berlinguer e poi Porto da lunedì riapre il Molo Sud e anche ai disabili a Giulianova in via di ultimazione i lavori di messa in sicurezza della zona che si affaccia sul mare con l'ausilio di Palina e New Jersey il problema della pulizia sarà risolto con i netturbini di quartiere istituiti da ieri ed ecco le guardie contro chi non rispetta l'ambiente questo ad Alba e poi a Giulianova il preside la settimana corta votata in autonomia la minoranza a testa bassa alla vigilia della seduta del consiglio comunale convocata per stamane in comune manca ormai la democrazia e cioè il rispetto delle più elementari forme di convivenza istituzionali e poi da domani sera ci sarà il primo festival dell'Eros a Martinsicuro sgomberato un campo di romeni con otto tende questo a Giulianova con un blitz dei carabinieri ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano la città e in questo caso andiamo a vedere anche quella che è stata ovviamente la situazione per da un lato l'inchiesta sui puntellamenti dove ci sono state le interviste le ovviamente l'audizione ed eccolo qua i polisini si dimettono dall'edil costruzione gli imprenditori montoriesi negano ogni addebito durante l'interrogatorio rapporti trasparenti e legali redderazione i legali di padre e figli hanno chiesto la libertà per i loro assistiti finiti ai domiciliari nell'inchiesta sugli appalti della ricostruzione sono finiti nel mirino dei PM della DDA e dell'Aquila per il cantiere della Corte d'Appello e poi i conti rosso delle Sette Sorelle ci spostiamo il bilancio di Brucchia alla resa dei conti Teramo Ambiente l'obiettivo è di votare ad oltranza anche sul doppio bando della Team per evitare di allungare i tempi fino al 4 agosto ed oggi il voto sul documento di programmazione economica strettamente connesso al prossimo rimpasto di giunta occhi puntati attenzione massima in maggioranza ad ogni sfumatura di voto per una lettura sulla prossima giunta la minoranza dice nessun accordo sulla Team le opposizioni chiedono più tempo per i dati della società ancora in cerca di mine sotto Ponte San Ferdinando prima di avviare i lavori a rondò eseguiti i controlli su eventuali residuati della seconda guerra mondiale Braga per ora non c'è Terna e nemmeno un presidente nulla di fatto ieri oggi un nuovo incontro pocheristi perseguitati dall'agenzia delle entrate le vincite all'estero ma anche via internet non possono essere tassate e l'avvocato si scaglia contro l'agenzia di Teramo l'avvocato Max Rosa pocherista esperto a sua volta cura casi di giocatori professionisti nei confronti dello Stato in maniera legale e poi Atri il senatore Franchi contesta via Almirante il politico Missino strinse la mano a Togliatti e fu ricordato da Napolitano ma per Lampi non sarebbe degno la provincia Asla la salvezza passa dall'ospedale unico chiesta un'accelerazione all'assessore regionale alla sanità Paolucci nel corso del comitato ristretto dei sindaci decreto Balduzzi con il nuovo nosocomio provinciale Teramo potrebbe chiedere l'assegnazione del dipartimento emergenza e accettazione spuntandola sui cugini aquilani nella riorganizzazione della sanità territoriale già in atto nella regione e poi basta con le dispute politiche è ora di passare i fatti concreti sanità il senatore Antonio Franchi interviene nel dibattito invita tutti i politici locali a superare i campanilismi lo yacht si spezza il recupero è stato rinviato le operazioni cominciate ieri saranno a carico dell'armatore russo si parla della rissa andato a fuoco a largo di Tortoreto qualche giorno fa e poi Ruzzoreti i giorni in più serviranno alle ditte per completare il progetto esecutivo prorogato il bando per il depuratore di Tortoreto sgomberato il campo nomadi sulla statale a Giulianova blitz dei carabinieri e municipale di fronte al magazzino Mauriz un gruppo di romeni aveva preso possesso di un terreno privato piazzando al suo interno otto tende e poi Lanciotti fa una lezione d'economia al sindaco record di tasse alle imprese a Roseto il direttore di CNA replica le contestazioni dei dati da parte di Pavone e ieri è stato il sindaco di Roseto Pavone a fare una dura critica verso la CNA perché sembrerebbe che le aziende di Roseto e le aziende abruzzesi sono le più tassate vediamo l'intervista Sindaco Pavone come vuole chiarire la polemica nata dopo i dati emersi dalla CNA guardi io assolutamente non ho nessuna intenzione di fare polemica con nessuna a me piacciono le cose che poi sono dimostrate le cose oggettive ho letto questa fantomatica graduatoria in cui la città di Roseto sarebbe l'ultimo posto per quanto riguarda la tassazione delle imprese premesso che le imprese ripeto pagano sostanzialmente imposte allo Stato l'IRES l'IRAP l'IRPEF e sono tutte imposte statali e che quindi io vorrei conoscere nel dettaglio quali sono gli elementi dei tributi o delle imposte locali che hanno contribuito a redigere questa graduatoria premesso che le imposte dello Stato sono uguali in tutti i comuni d'Italia per quanto riguarda ripeto quelli comunali vorrei conoscere dalla CNA i dati nel dettaglio di quali sono le imposte e i tributi comunali che hanno inciso e che sono stati inseriti in questo elenco e il confronto con gli altri comuni con cui Roseto è stato confrontato noi non abbiamo incrementato nessun tributo di servizi a domanda individuale oppure altri tributi comunali all'infuori dell'Imu che è stata sostituita l'Imu è entrata in vigore al posto dell'ICI qualche anno fa e che Roseto è al 10,6 per mille che quindi è il massimo stabilito dalla legge come lo è in tanti altri comuni italiani per quanto riguarda le altre imposte non so quali appunto come si fa a calcolare per esempio sulla Tariche o l'Ax Tarsu poiché le imprese pagano questa imposta secondo la tipologia di attività che fa quindi non è uguale per tutte le imprese quindi sono curioso di sapere di conoscere come è stato redatto questa graduatoria nel dettaglio per ogni singola imposta locale nazionale ogni tributo comunale il confronto con gli altri comuni e solo in quel momento allora sarei in grado di confrontarmi e di poter ragionare su questi dati ecco io aspetto questo se la CNA ha questi dati li faccia uscire ci rimandi faremo un confronto pubblico televisivo in piazza dove si vuole e ci confronteremo su questi argomenti diffido e invito i cittadini a diffidare di chi ha le ricette facili apriamo la pagina dello sport iniziamo dal Pescara si parla di calcio mercato il Pescara piazza il colpo ecco Verre accordo con l'Udinese per il prestito del centrocampista si stringe per il ritorno del terzino Crescenzi proposto forte un altro tassello per completare il mercato ieri il Pescara ha trovato l'accordo con l'Udinese per l'ingaggio di Valerio Verre la mezzala scuola romana classe 94 salvo clamorosi dietro front nel weekend arriverà in Abruzzo in prestito per mettersi a disposizione di Massimo Oddo come anticipato dal centro lo scorso 24 luglio era lui l'obiettivo numero 1 indicato dall'allenatore bianco-azzurro per rinforzare il centrocampo fresco vincitore del premio Pier Mario Morosini quale miglior giovane dell'anno dell'ultimo torneo di serie B l'anno scorso Verre ha collezionato 37 presenze con la maglia del Perugia in preziosite da 5 gol e 4 assist e poi oggi il test contro la maceratese di Ganci alle 17 l'amichevole che chiude il ritiro di Cingoli domani la presentazione delle nuove maglie alle 17 il Pescar giocherà la sua seconda amichevole a Cingoli dopo aver affrontato la re canatese avversario sarà la maceratese dell'ex tecnico e attaccante bianca-azzurro Cristian Bucchi nella fila della squadra marchigiana che quest'anno ha centrato la promozione Lega Pro milita Massimo Ganci uno degli artefici della promozione del Delfino 2009-2010 e poi il Teramo secondo test per il Teramo Donna Rumma D'Agostino l'intesa è già buon punto due gol a testa nel primo tempo contro una rappresentativa di Campobasso il difensore Scipioni per la Team Cup vogliamo essere pronti all'80-90% mercato Calvano nel Mirino piace Beretta e poi oggi Savonateramo deferiti Catania Pulvirenti Arbotti e Diluzio l'11 ci sarà il processo prima i primi deferimenti il procuratore Palazzi ha cominciato dall'inchiesta di Catania i treni del gol l'ultimo in ordine di tempo tra le indagini della magistratura ordinaria sul calcio italiano Palazzi ha deferito il patron del Catania Antonio Pulvirenti l'ex di Pablo Gustavo Cosentino Piero Di Luzio ex dirigente del Pescara Fernando Antonio Arbotti argente dei calciatori e il club Etneo la decisione è stata presa in relazione al filone d'indagine della procura di Catania per le partite comprate dal club Etneo per evitare la retrocessione in Lega Pro per il Catania il deferimento è arrivato sia per responsabilità diretta che oggettiva stralciata invece la posizione dell'ex DS Daniele Dellicarri ex Pescara e di Giovanni Impellizzeri secondo la procura Pulvirenti era il capo e promotore mentre Delicarri e Darbotti avevano il ruolo di organizzatori di Impellizzeri quello di finanziatore Pablo Cosentino invece viene definito partecipe e le partite in questione sono sei Catania con soggetti con soggetti allo stato non identificati o nei cui confronti non sono in corso ulteriori indagini penali il Catania nel tentativo di evitare la retrocessione dalla B alla D proporrà un patteggiamento per finire Lega Pro con penalizzazione il processo è in programma l'11 agosto e oggi sono attesi i deferimenti di Savona Teramo e il processo dovrebbe celebrarsi il 12 agosto e poi Corda Dico la verità e Barghigiani lo sa il tecnico già squalificato insiste vi fu con Bin tra Savona e Teramo parlo per aiutare a fare pulizia non ho motivi di rancore con il club ligure i giorni di galera mi hanno fatto riflettere a marzo sono stato sul punto di allenare l'Aquila mi aveva chiamato Di Nicola e poi Crecco Cragno e Conti Lanciano stringi i tempi rivoluzione nel settore giovanile cambiano i dirigenti e gli allenatori il difensore Beia la San Benedettese Gian Donato dice sì all'offerta del Padova e poi il salto doppio di Paolo Valcaiari il centrocampista della Miternina serie di ceduto in B Santi Rocco al Pescara e poi l'inchiesta a dirti soccer c'è il verbale dai serbi fino all'albanese ecco la rete di Di Nicola una dritta sbagliata l'Aquila a tutto cuoio fa saltare i legami con Eriacu Di Lauro mi ha presentato i serbi con loro rotto perché impaurito da certi atteggiamenti le telefonate con l'ex ingrosso voleva i soldi per le spese mediche dell'anno prima il dirigente di Morrodora gli arresti domiciliari racconta come sono nati e finiti i collegamenti con gli scommettitori andiamo sulle pagine del messaggero per lo sport e anche qui Pescara per Verre ci siamo si cambia sulle fasce rossi a Brescia quasi certo il ritorno di Crescenzi l'ex centrocampista del Perugia di Scuola Roma si unisce a un riparto molto giovane ad alto tasso tecnico dalla linea verde al premio giovani la Virtus fa i conti Cragno e Crecco restano vicinisti Tresto e Novara ai dettagli per accedere al tetto massimo dei fondi di Lega vanno schierati ogni gara 4 under 21 e poi Sansovini ritrova il 9 ritirato il 4 di Zucchini ci spostiamo Teramo oggi si saprà nell'amichevole col campo basso 6 gol e un buon test con una doppietta di Donnarumma in campo anche Speranza sul fronte del mercato è atteso il sì del mediano Calvano domenica ultimo test a Rivisondoli con la Virtus Franca Villa il portiere Tonti dice sarà dura ma siamo pronti non dimenticando che la nostra forza resta il gruppo e poi l'Aquila Aureli il clima è sereno subito una gara ufficiale il mister non ama i test precampionato di spalla dirti soccer di Nicola a Palazzi nessuna combine e non ho mai fatto scommesse il verbale non mi sono mai prestata ad operazioni dirette da alterare risultati di gare di calcio né tanto meno ho mai scommesso lo dice Ercole di Nicola ex direttore dell'area tecnica dell'Aquila Calcio in apertura del verbale dell'interrogatorio sostenuto davanti agli emissari del procuratore federale Palazzi lo scorso 27 giugno l'ex dirigente risponde passo dopo passo le contestazioni mosse alla luce dell'inchiesta di Erti Soccer condotta dalla procura della Repubblica di Catanzaro e allora con lo sport come sempre concludiamo la nostra rassegna stampa prima di salutarci come sempre ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e poi questa sera alle 19 invece la rassegna stampa di mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7 buona giornata per la rassegna stampa un po' Grazie a tutti Grazie a tutti